Questa è la nuova filosofia di squadra. Il football è solamente uno dei mezzi per onorare Dio. Pensa che a Dio importi del football. A Lui importa della vostra fede, importa del vostro cuore. Se vivete la vostra fede giocando a football, a Dio importa del football e Gli importa di voi. Ci ha inviato Gesù che è morto per noi, perché potessimo vivere per Lui. Perciò siamo qui. Ma questo non vale solo per il football. Dobbiamo onorarlo nelle nostre amicizie, nel rispetto per l'autorità, quando siamo a scuola e anche quando siamo soli a casa. Voglio che Dio benedica questa squadra di cui la gente parla tanto. Ma dobbiamo dargli il nostro meglio in tutto. E se vinciamo, lo loderemo. E se perdiamo, lo loderemo. Comunque vada, lo onoreremo con le nostre azioni e i nostri atteggiamenti. Quindi vi chiedo, per che cosa vivete?